Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su World of Warships Oggi andiamo a vedere un altro gameplay con la mitica corazzata giapponese di livello 10 Yamato Allora, vediamola come sempre in tutta la sua bellezza con i mitici cannoni da 460 bandiere fondamentalmente per quanto riguarda il combattimento, le famose Jolly Roger che si possono vincere, anzi si potevano vincere tramite la vittoria nelle ranked battles Abbiamo, vediamo il matchmaking, fondamentalmente navi di livello 10, giusto un paio di navi di livello 8 Siamo nella mappa lacrime del deserto, modalità supremazia, 3 punti di cap La prima squadra che arriva a 1000 punti vince Oppure bisogna distruggere tutte le navi nemiche, nulla di più semplice Mettiamo la visuale, quella del gioco, molto bene Abbiamo la Kurfust, la corazzata di livello 10 tedesca con le sue armi secondarie, la sua idro I suoi cannoni da 406, non vorrei dire una cavolata, vado come sempre a memoria Non posso ricordarmi tutte le navi del gioco La Kitakaze la vedremo presto, molto presto sul canale Il cacciador periniere da combattimento giapponese di livello 9 Vediamo subito che la squadra è un po' intimidita, ancora non spotta nulla Vediamo un attimo Due cacciador perinieri Dove vanno? Tutti e due su Charlie Io questa cosa non la capirò mai Il cacciador periniere Lightning ovviamente doveva andare a spotare il settore di Alpha Quando avete, e ci sono due cacciador periniere in partita Uno su Alpha e uno su Charlie Nulla di più semplice Non ha senso andare tutti e due su Charlie Perché su Alpha adesso loro, le nostre navi, non hanno nessun punto di riferimento Perché nessuno sta spottando per l'appunto, per poter sparare La nostra Curfus attiva la idro così in maniera del tutto random Io capisco la sicurezza, sono il primo a parlare di sicurezza sul gioco Quando non siete sicuri attivate la idro Però qui stiamo esagerando leggermente Perché la partita è iniziata da un paio di minuti E anche volendo non penso che quei cacciador perinieri abbiano la gittata necessaria per colpire la Curfus Qui glielo scrivo anche in chat Ovviamente due cacciador perinieri Stesso punto di cap E su Alpha, come vedete, non c'è assolutamente nessuno Abbiamo due corazzate e due incrociatori totalmente fermi Quindi di cosa stiamo parlando? La partita inizierà già male Ancora prima di sparare già le cose non vanno Perché tra l'altro il cacciador periniere inglese Qui spara un paio di colpi sull'incrociatore giusto per farsi spottare E nulla di più Noi invece possiamo solo ed esclusivamente Provare un colpo su quella St. Louis Qui il radar dell'incrociatore americano Secondo me è un po' a vuoto Perché molto probabilmente Il cacciador periniere loro si trova sul settore circa È una mia supposizione di H7-H9 Quindi il radar dell'incrociatore americano non sarebbe mai arrivato Andiamo a perdere il Neptune L'incrociatore di livello 9 inglese Una cosa molto importante tra l'altro È che bisogna utilizzare il radar Quando serve realmente Non quando magari la squadra non sta guardando neanche in quel punto Bisogna usarlo con saggezza Con intelligenza Non bisogna utilizzarlo così quando mi gira Ripeto Magari c'è il cacciador periniere dentro il fumo Allora utilizzo il radar Però utilizzarlo nei primi 30 secondi di partita Quando magari non ho neanche il raggio Per poter spottare il cacciador periniere È un radar completamente buttato Io preferirei conservarlo Ed essere sicuro di andare a spottare Il cacciador periniere L'incrociatore è quello insomma che sta dentro al fumo Proviamo una timida avanzata anche noi sul settore di Charlie Diciamo che le racazze qui iniziavo un pochino a preoccuparmi Perché ripeto Non veniva contrastata da nessuno Quindi vorrei evitare 800 siluri sulla mia nave È vero che però La nostra corazzata propone una riduzione del danno del siluro Pari al 55% Che è davvero molto Qui proviamo un tiro sulla Indenburg Un tiro da 23, quasi 24 chilometri Vediamo perché i colpi sembrerebbero andare Molto bene Eh sì, eh sì Cittadella 20.000 da quasi 24 chilometri Adesso ci stiamo avvicinando Questo è un gameplay che volevo portarvi un po' più in là nel tempo Però siccome a breve ci sarà l'aggiornamento Sul gioco Non vorrei rischiare di perdere il replay Perché come sapete Il replay si può aprire tramite il client di gioco Se il client viene aggiornato Potrebbe essere che non viene eletto dal nuovo aggiornamento Ecco appunto Un'altra Un'altra cittadella La nave distrutta La Indenburg Con due cittadelle Qui sinceramente Quando ho fatto la kill Sono stato particolarmente felice Perché era un colpo Non semplicissimo Comunque era in movimento Era lontano La dispersione Insomma Tutte queste cose qui Però ciononostante Abbiamo fatto E messo a segno Direi Una Ottima kill Sul settore di alfa Ovviamente CVD Come voleva si dimostrare Stiamo avendo dei problemi abbastanza seri Perché il cacciatore peniere Non ha spottato le navi Di conseguenza Le nostre Non hanno sparato E insomma È tutta una catena Che Si accumula Diciamo Un errore E un problema Dietro l'altro Insomma Creano Il La ritirata Dal settore di alfa Continuiamo ad avanzare Noi Dobbiamo avanzare Perché qui Vabbè Quello continua ad utilizzare La idro Da un'ora e mezza Non sto capendo il motivo Non serve assolutamente a nulla Comunque sia Proviamo ad andare Sulla corazzata Di livello 10 Francese Republic Una nave molto Molto interessante Però diciamo Che la cittadella È anche abbastanza grande Molto divertente Con le armi secondarie Il tempo di ricarica Molto breve Insomma È Una nave molto veloce Che propone anche il boost Una particolarità Delle navi francesi Che propongono il boost Per l'appunto Per la velocità Ma qui il microfono L'ho acceso Sì Ogni tanto mi viene Il dubbio Sto registrando l'audio Oppure no Può capitare Perché insomma Avendo la periferica Esterna Audio Devo accendere Tutto quanto Vabbè A parte queste cose Questi problemi tecnici Che mi riguardano Personalmente Proviamo ancora Sulla Republic Qui la kitakaze Ancora una volta Un po' timida Un po' timida È vero che sta Cappando Però Però La timidezza Secondo me Si è vista anche Fin dall'inizio 14.000 Sulla Republic Qui purtroppo La squadra Anzi le due squadre Sono in totale parità Perché stiamo Distruggendo una nave Stiamo perdendo una nave Stiamo avanzando Da Charlie Ma ci stiamo Ritirando da Alpha Quindi diciamo che Inizia questo circolo Intorno alla mappa Dove noi andiamo Da destra verso sinistra E i nemici Da sinistra verso destra Perché Vanno da Alpha E noi come detto Andiamo da Charlie Rimangono due problemi Prima di poter dare Una mano Al settore di Alpha Ovvero dobbiamo Terminare Assolutamente La corazzata francese E la corazzata americana Una volta distrutte Potremmo andare A dare una mano Verso il settore di Bravo E poi di Alpha Ok Utilizzate ancora Un po' di Hydro Perché Fa sempre comodo Come sempre Vediamo un attimo 13.800 Qui il nostro incrociatore Fa sentire la sua cadenza Di fuoco Anche qui In Moskva Vai Ce la facciamo A portare a casa La kill Arrivano anche Siluri Ok Distrutta tramite incendio Andiamo sulla Carolina Corazzata di livello 8 Americana Andiamo sempre Con i 460 Al momento Abbiamo fatto 68.000 danni Abbiamo perso 3 navi Mentre i nemici Ne hanno perse 5 Quindi Un piccolo vantaggio Per quanto ci riguarda Qui il lighting Il lighting Non lo so Perché Glielo scrivo anche in chat Perché Hai mancato anche la corazzata Perché sei andato così vicino A mezzo metro Dalla Carolina Quando magari Cittadella Quando magari Poteva andare Verso il settore di Bravo E rallentare i nemici C'è qui la giocata Del lighting E della serie Mi sono stancato di giocare E mi vado a suicidare Questo è stato il ragionamento Secondo me Del cacciador periniere Inglese Non c'è altra spiegazione Perché ripeto Sicuramente il settore di Bravo Avrebbe avuto Molto più bisogno Della sua presenza Infatti Poi la Carolina Non ci pensa due volte Spara Tu con tutti i cannoni E va a timbrare Il nostro cacciador periniere Abbiamo un vantaggio Ancora di un paio di navi Però diciamo che I problemi Dal settore di Alpha Sembrerebbero Adesso No C'è ancora la corazzata Che si ritira L'incrociatore Ci sta pensando Dobbiamo pensare Adesso la Curfust Vediamo un attimo La Curfust Oppure Il L'incrociatore americano Leggerissimo Una nave Leggerissima Veramente Quindi Il colpo devastante Potrebbe arrivare Magari Sarebbe molto interessante Da fare E' il momento Di andare verso Il settore di Bravo Qui scrivo in chat Guarda Ti ha dato una kill Regalata Sapete Natale Quando si fanno i regali La stessa identica cosa Regalata Comunque sia Ragazzi Mi raccomando Se non siete iscritti Al canale Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Una bella condivisione Siamo vicinissimi Ai 6.000 iscritti Ragazzi 6.000 Siete davvero Tantissimi Inoltre Se il gioco Vi piace Vi interessa Volete provarlo Nella descrizione Del video Trovate il link Per potervi iscrivere Se utilizzate il mio link Ovviamente Mi fate Un grosso favore Continuiamo ad avanzare Qui il replay Come sempre ci propone Un pochino Lo sapete già La battuta Quindi non la faccio Nuovamente La nave La nave si muove Così Non fa nulla Vediamo Abbiamo provato Un tiro Sul Moskva Ce la facciamo Dai Becchiamolo Sì Un'altra città Allora 16.000 Qualcosina in più Me la poteva dare Anche quel 20.000 No? Che è più bello Da vedere 16.000 Vabbè Accettiamo il 16.000 Però ripeto Un 20.000 Sarebbe stato ancora Più interessante Abbiamo ancora Tutti i punti vita Vorrei far notare Questa cosa Dopo 11 minuti Abbiamo ancora Tutti i punti vita Della serie Che i nemici Non ci stanno guardando Minimamente E vorrei ben dire Perché comunque Tra un incrociatore E una corazzata Ovviamente Si va sull'incrociatore Con la corazzata Un po' di tromba navale Per Far spostare L'incrociatore Qui Scrive in chat 3 contro 1 Ok Non so Non so dove si trova Sinceramente Penso che sia Quella Quell'incrociatore Non lo so E non mi interessa Qui la Kurfust Vediamo Perché forse Ci vuole caricare Dovete fare Molta attenzione Quando giocate La Yamato Perché è una nave Molto 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 Lenta Nelle virate E vi ho fatto vedere Soprattutto Nelle ultime Clan Nelle ultime Ranked Come La Jean Bart Potesse distruggere In maniera Molto semplice La Musashi Qualora Quest'ultima Stesse ferma E per l'appunto La Jean Bart Va contro La Musashi Perché Questo discorso Lo possiamo applicare Con Yamato E Kurfust O Yamato E altre navi È una nave Molto molto lenta E i cannoni Fanno fatica A seguire L'avversario Perché Un calibro Così grande È molto Lento Da muovere Poi considerate Anche che La modifica Diminuisce Ulteriormente La Diciamo Il movimento Delle torrette E quindi insomma Avete delle torrette Davvero molto Molto lente Questo insomma Per farvi capire Ancora una volta Che dovete Cercare di chiudere La nave Prima E non farla avvicinare Se si avvicina I problemi possono Essere anche Abbastanza gravi 149 mila danni Vediamo se riusciamo A portare a casa Un'altra kill Attenzione perché Ha subito un po' di colpi Qui la corazzata Ancora una volta Della serie Io Faccio così Tanto che me ne frega Che l'ha Yamato Mi sta sparando Abbiamo perso Solo 9 punti In questa partita Altri 5402 Con torretta Danneggiata Molto molto bene La Kurfust Si prende la kill Sull'incrociatore americano Siamo saliti A 164 65 mila danni 764 A 499 Sono rimaste Solo 3 corazzate Nemiche Una partita Che sinceramente Non era partita Benissimo Perché il settore Di alfa È stato completamente Lasciato Dal cacciatore Periniere Sul settore di Charlie Siamo stati un po' timidi Effettivamente Ad avanzare Però è anche vero Che i radar Utilizzati in quel modo Insomma Non è che mi abbiano fatto Impazzire più di tanto È rimasta la corazzata Di livello 10 Britannica E quella Francese Vediamo Qui dobbiamo Semplicemente Cercare di Arrotondare Il punteggio E cercare di arrivare Almeno Insomma A 200 mila Che è sempre Un bel numero Da vedere Vediamo se i colpi Passano Sì 12.622 Sono riusciti Proprio a passare Sopra Gli alberi Dell'isola Davvero Fantastico I 460 Hanno distrutto Tutto Certo Sarebbe bello Vedere anche Le isole Che si possono Distruttare Vabbè no Qua stiamo Un po' Esagerando Effettivamente L'isola Che viene distrutta Dipende Dalla grandezza E altro Andiamo Sulla Republic Andiamo Sulla Corazzata Francese Vediamo Se ci propone Un angolo Abbastanza Buono Qui la Corazzata Teresca Sta avanzando Ha fatto Una leggera Virata Vediamo Se cadono Bene 4884 Con un singolo Colpo Con una singola Perforazione Se tutti i colpi Fossero caduti La corazzata Ci avrebbe Già salutato Da tempo Vediamo Se c'è tempo Ancora Per arrotondare Il nostro punteggio Non abbiamo Cappato nulla E il cap In termini Di punti Finali In classifica Fa davvero Molto Ci portiamo A casa Però Confederato Segno Che siamo Stati Molto Attivi E Sparato A tutte Le navi Presenti Nella Partita Vediamo Un pochino Se abbiamo Tempo Ancora Per un piccolo Colpo È rimasto A 10.000 A questo punto Ragazzi Direi di andare A vedere I risultati Posto scontro Perché la partita È praticamente Terminata Risultati Posto scontro Ragazzi Video terminato Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni Noi come sempre Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao